Un incontro informale ma di notevole significato. Lui è Anders Weirid, 75 anni, arcivescovo della chiesa luterana svedese e attualmente arcivescovo emerito di Uppsala, una sede riconosciuta di grande rilevanza. Dal 2006 al 2014 ne è stato arcivescovo metropolita, in carico che ha coinciso per lo stesso periodo con quello di primate della chiesa di Svezia. È venuto in terra di Arezzo accompagnato da tutta la famiglia, moglie, figli e nipoti, in conformità con le loro usanze religiose. Era venuto dieci anni fa, quando era ancora arcivescovo effettivo, adesso è tornato da arcivescovo emerito. Arezzo e la provincia è un luogo a lui molto caro, perché ha ospitato a Pieve e a Presciano per molti anni i corsi estivi di storia dell'arte collegati alla chiesa svedese. L'arcivescovo ha fatto una lunga sosta nel palazzo di Fraternita, in Piazza Grande, dove è stato accolto dal primo rettore Pierluigi Rossi e accompagnato dal rettore Arturo Ghezzi. Pieve e a Presciano prima di venire qui abbiamo visitato Pieve e a Presciano, perché c'è una relazione tra quel paese e il nostro luogo. Ci sono stati in passato molti contatti. Adesso con figli e nipoti siamo venuti qui. Questo è impossibile nella chiesa cattolica, ma è invece possibile in quella che io rappresento. Ma sarebbe possibile nella chiesa cattolica evangelica di Suez.